La scamorza molisana si prepara in tutta la regione. Il latte è di vacche di razza bruna, generalmente allevate al pascolo. La tecnica è quella del caciocavallo, in questo caso però l'aggiunta del caglio avviene a temperatura più bassa, 32-36 gradi centigradi, mentre la temperatura dell'acqua di filatura è leggermente più alta. Dopo la filatura i pezzi sono modellati manualmente a forma di pera con testina mozzata. La salatura avviene in salamoia per 20 minuti. Legate a coppie le scamorze sono poste ad asciugare e vanno consumate nel giro di qualche giorno. Quando sono molto fresche rilasciano al taglio residui di latticello. Sono ottime cucinate alla brace.